la processione del venuto di santo laboratorio della compraternità del santissimo sacramento adesso sta per iniziare la processione di gesù cristo verso la croce secondo il consueto itinerario di gesù cristo si regherà con i compratelli verso la croce con i compratelli verso la croce gli scout del palma primo siamo in diretta gli scout di palma 2 la protezione civile dei falchi protezione civile comunale poveri cavaliere di cristo gruppo di preghiera padre pio castellano di mario grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 . a tutti. 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 si vede il racco. a tutti. 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 tutti. a 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 tutti.